pronto pronto freddy mi senti si dobbiamo iniziare il video iniziamo ciao cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft siamo insieme a vincenzo siamo ritornati qui e già abbiamo deciso come chiamare questo episodio il ritorno di villaggio rottaforte prendiamoci le cosine dai prendila 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 la dobbiamo cucinare prendi anche la sfista prende la cesta ok prendo la cesta senti non mi che c'è oh ora c'è prendo la cesta perché se prende la cesta non c'è più come quella scena ragazzi è un mistero comunque abbiamo i telefoni quindi possiamo parlare prendi il tuo telefono dobbiamo andare a parlare al telefono davanti villager ma sei in curativa? no ma che io ti compicchio però non fai niente no lo lasciamo stare aspettate un attimo eccoci qua ho messo sopravvivenza il video ho messo? di nuovo si comunque aspettiamo che entri vincenzo scusate ragazzi sta per entrare secondo me eh dov'è? sto per arrivare eccoci vediamo se ora ti posso cucchiare si ora ti posso cucchiare comunque abbiamo i telefonini yeah ehi a me mi dà le cose ah non ti fa così eccolo non ti fa sogno 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 prendere il villaggio non andiamo ah tieni il telefono in tasca se non si arrugginisce non non facciamo iiii il villaggio lo so a memoria il villaggio scusate per mia nonna è mia zia ma che c'è meno? vorresti vedere quello che fa? è il mio cugino comunque c'è una pecora la e la dobbiamo uccidere vediamo con le chiappe e qui c'è una macchina buona quella sarebbe il maiale buona scusate il maiale sarebbe una macchina ciao a te e ci diamo e ci diamo una mucca la è una mucca vero? sì buona maiale maiale volontà aspetta Reddy mi senti? ok chiama Fabrizio Fabri dobbiamo andare nel tuo fabbro e prenderti le cose ok? Fabrizio stai parlando ehi Fabri Fabrizio che c'è? stiamo entrando nel tuo fabbro possiamo prendere le cose? certo Fabrizio ha detto che possiamo prendere le cose io gliel'ho detto a tale io gliel'ho detto a tale bravo questo non mangia siiii l'avete visto? vedi? questo è un maiale che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo bravo Fabrizio ciao Fabri buona? no Fabrizio non è questo questo si chiama Franco vero e qua dentro ti lascio questo io i pantaloni vedo là sotto pronto buona 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 come sto con il telefono in mano? che buona apre avrà bocca ehi Franco dobbiamo uscire scusa ciao Fan Franco scusa per il pugno ma sono abituato andiamo andiamo a prendere la casa qui c'è casa vieni qua a casa sto mettendo un mare dolce c'è una cosa 64 vero? si e c'è anche la paga e cosa c'è? solo resta qua e vado a prendere ah ma io pure 64 dolce dai certo dalla creativa quando siamo spawnati solamente per il telefono scusate per il mio cuginetto il coccodrillo come fai ci viene chiedendo chissà ta 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 ah no ci metto un po' apri la bo come facciamo? oh vedi con il tuo telefono puoi fare il letto nero vero? hai towel? si si ho fatto la lana azzurra guarda wow lo sai puoi andare a scavare in miniera e trovare i telefoni in mezzo ai minerali vado io in miniera ok? aspetta vieni come va? si vabbiamo il rosario perchè mi andranno di chiaracqua ma? anzi non posso craftarmi qualche piccola? no 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 un letto rosso posso? io mi sono craftato un piccola di pietra bravo Io mi crafto, mi crafto, mi crafto gli stivaletti, c'è anche Topolino in questo universo, scusate Topolino, Tieni, affetta, tieni, io sto facendo mentre una cesta, mi dai la cesta tua, mi dai la tua cesta, no, aspetta, tu c'è a dire ma non posso craftare, questo lo sei volino e ci puoi arve, io mare di lui, senti io vado in minero, ok? Ah si, ma non c'è andare, è buio, è buio giusto? Guarda la carota, ti piace il boni, boni guarda la carota, carota, Andiamo, 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 è dietro di te, io ho mangiato mela, cosa? Ok vado in minero, ok? Io resto tutto il tempo a fare così, a osservare la carota, ciao Giovanni, Qual è? Tutti i villager? Qual è Giovanni? No, no, ma c'è l'altro che era il nostro amico. Ah, è vero che conosciamo tutti i villager tranne due, è vero? Già, dovrei dare un nome a un villager. Aleo, devi conoscere. Ve lo so, vado a rubare la pietra dalle case. Quanti minuti? 8, 18, io non ci bianco. Ovunque se volete i telefoni su Minecraft li potete trovare su addons. Ce l'hai? Ce l'hai, mi? Già. Ce l'hai su addons? Io. Ci mettiamo, ci conoscere. Tutte piccinezze. Aspetta Vigno, andiamo a prenderci un formaggino aggiunto. Vado in fondo, ok? Vado in fondo, non ci piace, vado a pasta di pranzo, sto venendo, ti vedo, stai indietro, l'hai scavato, non è un fauner, sto, tu lo sai che non si scava mai sotto di sé, è che potresti finire in mezzo alla lava, io scavo dall'altra parte, qui c'è poco segnale, ah qui prende, ciao Giambi, Giambara, ciao, ora ti lo prendo, purco schifo, no, la mia tappare è qua, dobbiamo tappare che ci cascano i zombie, non stai andando, sto facendo un mezzo, ferro, ti aiuto, potrei inserire il coniglio, sono 21 però, possiamo farci una spada di ferro, tu hai del ferro mi sembra che la trattincia il bollo, ma la faccio io, faccio un po' di pastigione eccetera, non fare la pala, no, perfetta, la lanciate nella direzione, vieni è ora il momento di mancare le carotine, ah che buono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ah non posso perché devo avere 3 lingotti, devo avere 2 lingotti di ferro e 2 bastoncini a posto di fare formettino, certo, perché il caccia e il cangia, a gusto ehi, ho fatto una fornace aspetta, passiamo lo crafting ma ci vediamo, alla prossima puntata, ciao 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 continui